È finita perché, come avevo anche raccontato nel libro, eravamo in un momento di crisi dopo sette anni che stavamo insieme, ma era una cosa superabilissima perché tante coppie a un certo punto non si trovano, non si parlano, eravamo molto giovani tutte e due e purtroppo invece che avere un aiuto entrambi per ritrovarci abbiamo avuto chi ci ha separato. Brutto, un peccato.